Proseguiamo, cambiamo proprio il genere, c'è il ciotolato per terra, ma potremmo immaginare di avere una piazza più liscia, di avere delle coppie che volteggiano il suono del valser viennese, anche se non è capodanno, però la bellezza di queste colline non ci fanno impiangere certamente per la stagione invernale. E immaginandoci questo possiamo ascoltare Strauss Bonbon, la banda vi porterà dunque nelle atmosfere viennesi, come alcune tra le più celebre aree di John Strauss, padre e figlio. Strauss Bonbon, la banda vi porta con me. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.